Ciao a tutti e a tutte, benvenute a Be Alive, un podcast che ha presipario su un palcoscenico in cui condividiamo pillole di esperienza di musicisti e non solo. Ben ritrovati allora oggi qui a Be Alive. Io sono contenta perché sto ricevendo tantissimi messaggi in risposta a questi podcast, quindi davvero vi ringrazio e voglio dirvi che sono molto felice, anche se parlare sinceramente di felicità in questo periodo non è facile, è quasi un azzardo, però sono sincera e lo esprimo così, di getto, senza veli. Ed ecco appunto che parlando schiettamente tolgo la mia maschera, il mio svelo e vi rivelo oggi che c'è un personaggio molto particolare, un attore, anche un caro amico, con cui parlerò di personaggi appunto, di togliere la maschera. Maschera o personaggi, insomma, quelli che interpretiamo nel corso della nostra vita, quanti ne interpretiamo e quanti più o meno consapevolmente. Ad esempio un personaggio che io amo è il Joker o il Jolly, sia quello delle carte ma sia quello proprio storico il giullare, diciamo. Ecco, mi piace come personaggio perché lui è l'unico della corte che può far ridere il re, può prenderlo in giro, quindi mette questa maschera e prende in giro un po' se stesso e tutti gli altri. Ma dietro questa maschera chi c'è? Che uomo c'è? Mi piace anche l'idea che mettendo maschera e diventando personaggi a volte riusciamo a vivere all'interno della società, a farci accettare da certi gruppi. Però nel corso del tempo poi le maschere cambiano, i personaggi cambiano e perdiamo la nostra identità e per ritrovarla a volte ci vuole davvero un grande lavoro di introspezione. Se ripenso a questo, appunto, a quante maschere indossiamo normalmente e quante invece decidiamo di indossare. Chissà quanti personaggi ha interpretato Romano Reggiani, che è il nostro ospite di oggi qui a Be Alive, ma glielo chiediamo passo per passo. Ciao Romano, benvenuto qui a Be Alive. Innanzitutto grazie e volevo partire con la prima domanda e chiederti qual è stato il tuo personaggio preferito sin da piccolo e qual è il tuo personaggio ora che sei più grande? Quello che ti è più piaciuto, quello che ti piace interpretare, quello che dovrai interpretare? Allora, Romano Reggiani da piccolo si divertiva assolutamente a giocare a Robin Hood. Per me Robin Hood è il personaggio che mi ha dato di più e ho dei grandi ricordi, bellissimi ricordi, oltre al cartone della Disney, ma poi Robin Hood mi ha... non lo so, mi faceva stare bene, soprattutto perché la passione dell'arco e le frecce è nata lì e adesso forse è un po' scemata, però comunque mi divertivo un sacco a giocare a Robin Hood, sì, Robin Hood è il top per me. E poi invece da grande un personaggio che mi piace nel vestire i panni, no, però diciamo al quale mi ispiro e lo sai benissimo, lo sapete tutti perché ne parlo sempre, è Bob Dylan. Bob Dylan per me è il mio faro guida, è la mia luce nel buio, sono un po' fissato, sono un po' dilaniato in tutti i sensi, no? E niente, quindi Bob Dylan per me adesso che sono, posso dire di essere adulto perché ho 27 anni, è il mio punto di riferimento e a volte vesto anche i panni di Bob Dylan perché io comunque sono una persona estremamente estroversa, però la verità è che mi maschero e Bob Dylan mi dà quell'opportunità anche di analisi personale, artistica soprattutto, che mi serve come crescita, no? E quindi sì, quando ero piccolo Robin Hood e poi non si sa per quale motivo la mia mente si è deviata e questo Robin Hood è diventato Dylan, però ci hanno qualcosa in comune perché tutti e due sono un po' di fuori legge e tutti e due hanno cambiato le cose nel loro modo, uno in un modo e l'altro ha rivoluzionato praticamente tutto, tutta l'arte, la cultura, il periodo post beat generation, insomma. Insomma diciamo un bel cambiamento di personaggi, no? Di gusti anche da Robin Hood ad Dylan, tutti però un po' paladini. Io so anche che Romano non è solamente attore ma anche cantante, cantautore, quindi c'è un personaggio romano, non di Roma ma che si chiama Romano, che recita e un personaggio che canta. Com'è? Com'è vivere queste due arti nello stesso tempo? Come ti senti? Che maschere metti? Allora, questa è una bellissima domanda e hai anche azzeccato il centro della questione, il nocciolo, perché la risposta è sì, perché il cinema per me, cioè Romano attore è una cosa e Romano è un musicista e cantante è un'altra, ma non perché sono scemo o perché sono malato o sono tipo Dr. Jack Lemistride, no? Perché semplicemente stiamo parlando di due professioni totalmente diverse e anche la percezione di come le persone mi considerano nei diversi ambienti, ovvero per me il cinema è oltre a essere fonte di vita e grande passione e lo sarà sempre, però è comunque un lavoro e quindi io ho un approccio totalmente professionale nei confronti, diciamo, dell'essere attore e questa cosa a volte mi limita perché mi sento più costretto all'interno dei canoni che magari non mi rendono totalmente libero in un certo senso, anche perché quando sei un attore non sei mai libero, sei sempre sballottato e trasportato da tutti in un mondo che non è il tuo. Mentre invece la musica è l'opposto, tu sei quello che sei nel tuo essere proprio puro perché la musica è libertà e oltretutto se suoni la tua musica o hai la libertà di poterti esprimere come vuoi tu, forse è la cosa che ti rende più libero perché quando suoni non c'è uno che ti dice come farlo, quando canti non c'è uno che ti dice come farlo e quando fai una performance non c'è un regista che ti dice come devi stare sul palcoscenico, io ti parlo dei concerti, non ti parlo del teatro, ti parlo dei concerti e quindi sì, sì, diciamo di sì, anche perché vabbè venite a vedermi, venite sul set e poi venite a sentire il mio concerto così vi faccio mettere le mani nei capelli. Grazie Romano, sicuramente io ti ho visto dal vivo e anche sul set e devo dire che la tua professionalità e la tua bravura si vede, si nota e si trasmette. Ti faccio un'altra domanda, tu sei stato gestore di un bellissimo club in centro a Bologna, il John Wesley Harding. Raccontaci cos'è stato per te avere diversi personaggi sul tuo palco, diversi musicisti e come hai vissuto quel periodo? È vero, ho avuto un club che si chiamava John Wesley Harding Club ed è anche il nome tratto ovviamente da un disco di Dylan e quindi dallo stesso fuorilegge protagonista di questo bellissimo LP. È stata un'esperienza meravigliosa, è stato un anno e mezzo di fuoco, un anno e mezzo che mi ha fatto capire veramente che cosa vuol dire essere artista e veramente che cosa vuol dire essere artista anche in un altro tipo di attività perché io ancora adesso ho sempre il sogno nel cassetto di aprire un mio club, un mio locale dove posso fare eseguire concerti di musica, folk, rock, blues, jazz e tutto e tutto diciamo quel mondo che io amo come anche la musica bebop. Per me far salire sul palco le persone settimanalmente ogni sera era un'emozione perché potevo creare un mio cartellone, una mia scaletta e avere personaggi diversi vuol dire essere stimolati da emozioni diverse perché noi viviamo di emozioni e per me il locale era un modo di dire stasera c'è questo, domani provo quest'altro, domani magari ascolto qualcosa che mi fa pensare a una cosa, il giorno dopo magari mi emoziono perché c'è una performance totalmente diversa e per me il palcoscenico è libertà e quindi io ho sempre cercato di dare ai musicisti e ai professionisti che venivano nel mio club la libertà di essere loro stessi senza etichette o senza regole, senza voler essere per forza commerciale, infatti il mio locale, il mio club era molto in controtendenza con quello che c'era in giro e ricordava molto le bettole americane, i locali cappello, quella roba lì e purtroppo ho dovuto chiudere, non per colpa mia ma perché hanno venduto i muri e io non potevo comprarli e quindi di conseguenza purtroppo ho dovuto inizialmente con l'idea di sospendere e poi il mio lavoro, il cinema e tutto il resto mi ha portato via e non ho più avuto il tempo di ripensarci concretamente ma lo farò perché ancora adesso dopo tantissimi, no tantissimi no quanti è 3-4 anni che ho chiuso la gente mi scrive ancora perché Bologna ha un bellissimo ricordo di questo posto e pure io. È vero tutti noi ne abbiamo un bellissimo ricordo di nottate, di concerti, tantissime belle emozioni che sono certa che vivremo ancora Bene, allora hai parlato proprio di personaggi, di artisti che nel tuo locale potevano venire ed essere se stessi e togliersi qualsiasi maschera, questo è molto molto bello, l'ho vissuto e posso dire che è stato così che questa è stata la sensazione Bene, tornando al discorso appunto sempre maschera e personaggio, noi ne abbiamo tantissimi nel corso della nostra vita come dicevo prima, no? Alcune che magari abbiamo abbandonato o senza ne darci ne conto, alcune che invece abbiamo scelto proprio di lasciare andare Per te qual è stata la maschera, il personaggio che è abbandonato da tempo? Allora, questa è una domanda interessante, una domanda bella, una domanda accattivante, una domanda che mi incastra Non so come rispondere, quindi non so se risponderò È complicato perché nella vita è esattamente come hai detto, noi siamo fatti di maschera, siamo fatti di etichette E forse l'etichetta che ho lasciato andare un po' di più alle mie spalle e forse non ho neanche scelto una cosa che è capitata con la crescita È quel volere sempre avere ragione su tutto e su tutti, far finta di sapere tutto Ecco, adesso io questa cosa qui l'ho persa, ma per fortuna, nel senso che non era una cosa negativa Perché io non è che dicevo le cose a caso, però a volte io, più piccolo, quando ero più piccolo Avevo questa presunzione di sapere le cose e di vestirmi di una maschera che non mi apparteneva Ma ne ero convinto, ne ero convinto, magari su temi che non mi appartenevano E quindi sì, è questo, io ho lasciato alle mie spalle questa sorta di presunzione a prescindere da Cioè adesso sono e rimango una persona abbastanza presuntuosa Nel senso che se io discuto di qualcosa è perché ci tengo Ecco, però è perché adesso sono totalmente informato Totalmente pieno di qualcosa che mi permette anche di essere sfrontato a volte Mentre invece quando si è più piccoli si tende sempre a combattere, però non si hanno le armi Ecco, quindi ho lasciato indietro questa cosa qua Perché volendo in verità uno, anche se cresce, potrebbe continuare a combattere a caso A dire cose a caso, a essere presuntuoso su qualcosa pur non avendo le armi per la discussione E invece io crescendo ho deciso che non voglio proprio discutere di cose che non mi appartengono Che non mi riguardano, oppure che addirittura che non... che mi farebbero perdere Perché io sono uno che... che quando voglio dire la mia opinione Io tendo sempre a vincere Magari non ho ragione, però a me fa piacere comunque pensare di avere vinto Beh, allora dai, un personaggio che gioca, che gioca con se stesso e con gli altri C'è, c'è ancora Dici invece, con l'ultima domanda, un personaggio di Romano che non conosciamo Che nessuno sa Allora, bella domanda, questa mi piace Cosa non sappiamo di Romano Reggiani? Non lo so, anche perché non lo so Cioè, nel senso, io... Un lato non misterioso, qualcosa che non sapete di me, di sicuro è che... E non lo voglio neanche dire, però lo dico perché è la verità Io sono una persona estremamente sensibile Sembro molto inquadrato, molto deciso, molto sicuro In realtà sono l'opposto E infatti, come dicevamo prima, ognuno di noi veste una maschera Ecco, io sono la maschera di quello che da fuori sembra tutto sicuro E in verità sono totalmente insicuro, sensibile e faccio fatica a prendere delle scelte importanti Detto questo, dopo essermi distrutto così Un'altra cosa che non sapete di me è che io amo scrivere Oltre a scrivere la musica io scrivo anche narrativa Quindi sto lavorando a un romanzo che ho finito E mi auguro possa essere pubblicato presto E poi ho in cantiere tanti progetti miei Come esempio progetti di film Che mi piacerebbe dirigere Scrivo sceneggiature Lavoro a progetti anche da Diciamo da creatore di progetti Sceneggiatore Faccio varie cose Ecco Questo da sempre È solo che non ne parlo mai Semplicemente perché comunque il mio lavoro è fare l'attore Poi faccio anche il musicista perché è una cosa che da sempre è sempre stata una necessità E tutto il resto lo continuo a fare ma non lo dico Quindi ecco forse questa è una cosa che non si sa di Romano Reggiani E detto questo Vi lascio nel mistero di chi è Romano Reggiani Perché magari ho detto tutte fandonie e tutte queste cose non sono vere E vi ho fregato No sto scherzando Non è così Grazie Grazie Romano Io vi invito a cercarlo Romano Reggiani su Facebook Ma su Instagram insomma Troverete tantissime pose Tantissimi lavori che ha fatto E poi il nuovo album che uscirà in quest'anno Perciò grazie Romano per essere stato con noi Grazie a tutti voi Ci vediamo alla prossima puntata Se l'episodio ti è piaciuto Ti chiedo allora di condividerlo sui social Usando l'hashtag ViaLive Così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast Grazie e buona settimana a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti